Buon salve e bentornati su No Mamamazzo! Continua il mese dedicato alla DC Comics, siamo agli sgoccioli perché il prossimo video sarà l'ultimo quantomeno all'interno del mese perché parleremo finalmente del film Joker che uscirà il 3 ottobre. Quest'oggi vorrei parlare di un altro evento, chiaramente meno magari influente e più televisivo che non da grande schermo che è il crossover che si terrà tra dicembre e gennaio nell'Arrowverse. Che cos'è l'Arrowverse? È quell'universo, anzi quel multiverso per ora, che comprende Arrow, Flash, Supergirl e tutti i loro comprimari. Prima però di addentrarci nel video vi ricordo di iscrivervi al canale, di attivare la campanella delle notifiche, di mettere un bel mi piace, di condividere il video con tutte le persone che vi stanno simpatiche o antipatiche, che me frega. E vi ricordo sempre che qua sotto in descrizione io vi metto sempre dei link che possono sostenere il canale, sono degli acquisti consigliati di Amazon, c'è la possibilità di iscriversi a Together Price per pagare meno Netflix o Spotify o similari. Ma bando le ciance andiamo subito nel succo del discorso. Crisi sulle terre infinite. Già dal titolo dovrebbe farci tremare le sedie, perché Crisi sulle terre infinite è stato il primo crossover della DC Comics nel 1985, di cui qui vi faccio vedere un bellissimo disegno di Alex Ross, che è fantastico. Sembra quasi che l'ho messo in post-produzione, in realtà lo sto tenendo con la mano. Che praticamente è stato anche il primo vero crossover significativo. C'era già stato un crossover Marvel con le guerre segrete, ma questo è stato quello che ha un po' fatto parlare molto di sé nell'85. La trama sostanzialmente del fumetto era questa. C'è un muro di antimateria che sta avanzando nella realtà del multiverso, cancellando tutte le realtà, tutti i vari universi. Una specie di Galactus della Marvel che mangia però intere realtà. C'è questa entità che si chiama Monitor che cerca di avvisare i supereroi rimasti in vita delle varie realtà per cercare di contrastare questa avanzata di nulla di antimateria. E lo scopo commerciale di questo fumetto, di questo mega crossover, era quello di sfoltire un pochino la continuity della DC Comics all'epoca dell'85. Perché c'erano troppe terre, troppe storie, troppi anni da raccontare e la gente iniziava a confondersi. E quindi dalla fine di questo crossover c'è stata un'unica e sola terra. Terra 1, poi vabbè, ce ne sono viste altre, comunque ma non c'è più stato tutto questo ingarbugliamento. L'occasione, invece, durante il fumetto è stata anche quella di vedere molte supereroi simili, se non uguali, confrontarsi. Per esempio, se ci fate caso in quest'altra copertina, c'è Superman, ma c'è anche un altro Superman, e anche un altro Superman. C'è Wally West, c'è Barry Allen che nel fumetto si sacrifica, c'è Wonder Woman, c'è il Supergirl. Ci sono, vedete, due Wonder Woman, c'è un Shazam, e ci sono tanti tanti altri supereroi che non conosco. Nell'Hurroverse, invece, abbiamo già avuto diversi crossover. C'è stato Hellsward, che è stato l'ultimo crossover che ci ha introdotto il personaggio di Batwoman. Prima c'è stato Crisi su Terra X, tutti questi crossover hanno comunque tratto il loro titolo da saghe fumettistiche della DC Comics, rendendovi omaggio. E questo Crisi sulle Terre infinite non è da meno, anzi, credo sia quello che più sarà simile a quello che è successo nel fumetto. Ovviamente non ci sono così tante realtà nell'universo di Arrow, che è quello creato dalla casa televisiva CW, ma sicuramente ne vedremo delle belle. E io queste belle ve le voglio anticipare per quello che si sente in rete. Iniziamo classificando le Terre dell'Hurroverse, che già abbiamo visto nelle varie serie TV di questi anni. Innanzitutto c'è Terra 1. In Terra 1 c'è ovviamente Arrow, ma c'è anche Flash e tutti i loro comprimari. C'è anche Vixen, che è quella ragazza che si trasforma in animale, che ha una sua web series. E c'è anche Batwoman, che non ha ancora una sua serie TV, ma ce l'avrà da gennaio. Ma l'abbiamo già vista nel crossover, appunto, Elseworld, dove Arrow ci spiega che Gotham è sempre esistita in Terra 1, semplicemente la figura di Batman, che non si poteva usare prima nella rete CW. La figura di Batman era vista da tutti, Arrow compreso, come una sorta di leggenda metropolitana, come una specie di spauracchio che i poliziotti di Gotham si erano inventati per spaventare i criminali. Tant'è che Arrow si risentiva anche molto di questa cosa, perché diceva io sono vero, mentre Batman è finto se lo sono inventato. Invece scopre con molto fastidio che Batman non solo è esistito, è stata una figura reale per Gotham City, ma che da qualche anno a questa parte si è dato alla macchia. E proprio per questo il vuoto lasciato dal Cavaliere Oscuro a Gotham, che sta generando un'ondata di crimine non indifferente, lo vuole riempire la sua cugina, che prenderà appunto il nome di Batwoman. Sempre parte di Terra 1, c'è anche un'altra serie TV che io ho apprezzato molto, che è Constantine. Parla appunto del personaggio di John Constantine, che nei fumetti fa parte della colonna Hellblazer, sempre facente parte dell'universo DC Comics, che ha già avuto un film nel 2005 con Keanu Reeves, che però non era per nulla attenente al fumetto. Questa serie era già molto più attenente al fumetto, ma comunque non è piaciuta abbastanza ai fan duri e puri per lanciarla nell'Olimpo delle serie della CW, e ha avuto solo una stagione. Ciò nonostante hanno riutilizzato comunque il personaggio di Constantine, così come hanno riutilizzato molti personaggi che iniziavano ad essere troppi nelle serie di Arrow e di Flash, per metterli nel telefilm Legends of Tomorrow. Il telefilm Legends of Tomorrow è ambientato fondamentalmente nello spazio-tempo, ok? Quindi non l'ho seguito bene, ho guardato solo la prima stagione dall'inizio alla fine, e poi l'ho visto nei crossover, però fondamentalmente loro viaggiano nello spazio, quindi una terra principale dove agiscono è Terra 1, perché vengono quasi tutti da Terra 1, però non ve li saprei collocare in una terra a sé. Comunque sappiate che esiste anche Legends of Tomorrow come serie TV, perché parte di questo crossover si svolgerà in Legends of Tomorrow. In Legends of Tomorrow, tra i vari personaggi, c'è anche quello di Atom, che è interpretato da Brandon Roth. Tenete presente questo perché dopo vi dico una cosa. Dopodiché c'è Terra 2. Tutte le terre diverse da Terra 1, finora le abbiamo viste, se non nei crossover, unicamente nel telefilm Flash, perché è quello che è più fantascientifico, di certo non le abbiamo viste in Arrow. In Terra 2, per esempio, c'è Jesse Quick, che è la figlia velocista dell'Harrison Wells di Terra 2, il mio Harrison Wells preferito, tra l'altro. Sempre parte di Terra 2 è anche Zoom Hunter Zolomon, quello psicopatico velocista che è stato l'antagonista della seconda stagione di Flash, prima di diventare Black Flash. Vediamo poi l'esistenza di Terra 3. In Terra 3, per esempio, c'è Jay Garrick, che è l'equivalente della CW, del Flash, quello degli anni 40 dei fumetti. In questo caso, Jay Garrick è interpretato dall'attore John Wesley Sheep, che è lo stesso attore che nelle prime due stagioni di Flash ha interpretato il padre di Barry Allen, Henry Allen, ma soprattutto è l'attore che negli anni 90, anzi nel 90, ha interpretato lui stesso Barry Allen nel telefilm Flash. Telefilm che io da piccolo ho adorato tantissimo, per questo motivo adoro il personaggio di Flash e per questo motivo ho iniziato a seguire anche la serie di Flash del 2014, che è quella della CW, e che però anch'essa ha avuto un'unica sola stagione, che vi consiglio comunque di recuperare perché è molto interessante, molto carina. Passiamo a un'altra terra, che si chiama Terra 38, molto probabilmente deve il numero all'anno in cui è stato creato Superman, che è la terra in cui agisce Supergirl, ok, sempre della CW adesso, ma quando è iniziata era della CBS, e per questo Flash e Arrow non potevano interagire così tanto, interagivano solo nei crossover annuali, ma adesso che anche Supergirl è stata acquisita dalla CW, si potrebbe vedere un po' più spesso Supergirl, ma c'è questo inghippo che sta in un'altra terra per ora. Sempre in Supergirl, quindi sempre in Terra 38, c'è anche Superman, ovviamente non potevano non mostrarcelo, Superman interpretato da Tyler E. E.C., non so pronunciarlo. Dopodiché, sempre nella serie Flash, abbiamo visto altre Harrison West di varie terre, c'è stata nominata Terra 19, che è la terra dalla quale proviene Gypsy, una delle prime fiamme di Vibe, di Sisko Ramon, che è quella che ci ha spiegato un attimino come funzionano la rottura, le brecce tra una terra e l'altra. Ma attenzione, c'è anche un altro supereroe, sempre legato alla network CW, che però non ha mai interagito con tutti gli altri supereroi dell'Hurroverse. Sto parlando di Black Lighting. Black Lighting è una serie TV che è trovata anche su Netflix, è un supereroe sempre facente parte della DC Comics e sempre facente parte della CW, di conseguenza potrebbe tranquillamente entrare in questo universo, ma finora non c'è mai entrato. Lo vedremo anche lui in crisi sulle terre infinite, finalmente. E infine, in Hellsward, abbiamo visto, seppur per poco, una terra molto interessante. Ho appena nominato il telefilm del 90 con John Wesley Sheep. In Hellsward, il John Wesley Sheep, interprete di Barry Allen, ha ripreso il suo vecchio costume. Fisicamente, davvero, è andato a riprendersi il vecchio costume che aveva indossato nel 90 e ha ripreso il ruolo di Barry Allen e ha detto, io sono Barry Allen di Terra 90. Quindi esiste Terra 90, anche essa usa il nome, usa il numero per ispirarsi appunto all'anno in cui è uscito quella versione di Flash. Tra l'altro, quando Flash di Terra 90 vede John Deagle di Arrow, lo scambia per la Lanterna Verde di Terra 90. E non so se questa cosa è stata così buttata lì, oppure se davvero nel prossimo crossover, per qualche ragione John Deagle diventerà la Lanterna Verde. Ma parliamo delle terre che vedremo nel crossover, perché è qui che arriva la ciccia, è qui che arriva la carne al fuoco. È questo che ci fa sbavare noi che sappiamo a cosa andremo incontro. Innanzitutto, le guest star che faranno parte del crossover inizio ad elencarvele. Ci sarà Bart Ward, che è il Robin, della serie live action anni 60, Batman, quella con Adam West, che è venuto a mancare qualche anno fa. Lo interpretava Robin. Non so se riprenderà il ruolo di Robin da anziano, o se interpreterà il ruolo di Nightwing anziano, o che ne so, non lo so. Fatto sta che sempre di personaggi che interpretano ruoli di persone in là con gli anni, abbiamo Kevin Conroy, che interpreterà un anziano Bruce Wayne. Chi è Kevin Conroy? In America lo conoscono tutti come il doppiatore di Batman di tutta la serie animata, quindi Batman The Animated Series, The New Batman Adventure, e il doppiatore sempre di Batman di tutta la serie videoludica di Arkham, quindi Arkham Asylum, Arkham City, Arkham Knight, Arkham Origins. Quindi diciamo è quello che ha dato la voce a Batman per più tempo, così come molti adorano il lavoro di Mark Hamill, che è il Luke Skywalker di Guerre Stellari, fatto sul Joker, perché è anche il doppiatore di Joker, sempre nella saga videoludica di Arkham e nei cartoni animati di Batman The Animated Series, Kevin Conroy è la sua controparte Batmaniana. Mark Hamill lo abbiamo già visto riprendere il ruolo di Trickster su Terra 1 nel nuovo Flash, perché Mark Hamill ha interpretato sia Luke Skywalker, sia Trickster nella serie Flash anni 90, ma anche Trickster nella serie Flash del 2014 e ha dato la voce al Joker. Cazzo, che carriera nerdissima! Quindi io non so se Kevin Conroy interpreterà un Batman anziano affiancato da un Bart Ward che è un Nightwing anziano in un'unica terra, o se ognuno di loro avrà una sua terra e faranno una comparsata. Non lo so, so comunque che sarà molto interessante vedere questi attori che portano il ruolo di nuovo sullo schermo. La notizia un po' più bomba, però, per questo crossover non sono tanto questi ospiti quanto la presenza di uno storico Superman della televisione americana, ovvero Tom Welling, il Superman di Smallville, che tecnicamente non è mai stato Superman in Smallville, è stato Clark Kent che cresceva e ha avuto dieci stagioni di grande successo. Tom Welling ritornerà a vestire i panni di Clark Kent e a vestire i panni di Superman, come lo abbiamo visto nell'ultima puntata della decima stagione di Smallville, e anche l'attrice che ha interpretato Lois Lane e Smallville riprenderà il ruolo. C'è stata una flebile speranza che anche l'attore che ha interpretato Lex Luthor in Smallville potesse partecipare, ma purtroppo questa speranza è sfumata. Tengo questa notizia per ultima perché a me è quella che piace di più. Come ho detto prima, Brandon Root riprenderà il ruolo di Atom in Legends of Tomorrow, ma Brandon Root nel 2006 aveva anche interpretato un altro supereroe della DC Comics, un certo Superman, se non sbaglio, in Superman Returns, e quindi sarebbe bello in queste mille terre parallele se ci fosse una strizzatina d'occhio a questa interpretazione e infatti cazzo ci sarà. Ci sarà perché Brandon Root interpreterà ben due ruoli. Interpreterà il ruolo di Atom, ma interpreterà anche il ruolo di Superman nella versione King Don't Come. Ve lo metto qua, vi metto qua le prime foto rilasciate dalla CW. È un Superman più anziano, ma chi lo sa, potrebbe essere il Superman anziano che abbiamo visto comunque in Superman Returns? Non so se sarà davvero possibile, ma sarebbe una gran ficata, perché se non lo sapeste, Superman Returns, che non ha fatto un gran successo come film, ma è stato concepito come seguito ideale di Superman e Superman 2, quelli con Christopher Reeve, ragazzi. Questo significherebbe che in Crisi sulle Terre infinite della CW teoricamente avremmo il Superman di Christopher Reeve, reinterpretato da Brandon Root per ovvie ragioni, che fa parte di questo mega crossover. Sarebbe una grandissima, grandissima figata. Specie se questo crossover finirà come è finito il fumetto, ovvero tutte queste terre infinite saranno azzerate, anzi unificate sotto un'unica terra chiamata, Terra 1, Terra Prime, non so come la chiameranno. Fatto sta che questo potrebbe voler dire di certo non avere più di un Superman in un'unica terra, ma che probabilmente qualche Superman si sacrificherà. Di certo non quello di Tyler Roachin, perché è quello ufficiale dell'universo CW, quindi potrebbe essere il Superman di Brandon Root di Kingdom Come, non penso nemmeno che sia quello di Tom Welling, perché vorrebbe dire che tutte le stagioni di Smallville che abbiamo visto che ci siamo fatti il culo per vedere Superman crescere e diventare Superman, se Superman di Smallville si sacrifica per le terre infinite, i fan di Smallville si incazzerebbero, quindi molto probabilmente se ammesso che ci sia un Superman che si sacrifichi potrebbe essere quello di Brandon Root. Sicuramente se c'è una persona, un personaggio che si sacrificherà, che invece nel fumetto ha avuto un ruolo marginale, è sicuramente Grinarro, perché? Perché Grinarro è giunto ormai alla sua ottava stagione e la vogliono chiudere chiaramente, la vogliono chiudere in bellezza non lo so, perché a me, io non l'ho seguita tanto, perché non mi è mai piaciuta molto, ma ultimamente a detta di molti fan è un po' stancato, fondamentalmente si stava un po' ripetendo, di conseguenza sicuramente Grinarro si chiuderà e molto probabilmente si chiuderà con il sacrificio di Oliver Queen per salvare tutti questi universi o quantomeno l'unico universo che rimarrà. Nel fumetto è Supergirl a morire, a sacrificarsi, ma chiaramente dubito che chiudano la serie di Supergirl, sicuramente continuerà anche perché il bello di unire tutte le terre è di vedere Supergirl interagire più spesso con Barry Allen e fare la famosa gara di corsa che solitamente Flash fa con Superman nei fumetti e nei film della DC Comics. E voi siete eccitati per questo crossover? Avete un pochino di hype? Fatemelo sapere nei commenti, così ne parliamo un pochino assieme. Noto che in rete non si parla molto di queste serie, probabilmente perché forse non hanno le trame profonde che possono avere i telefilm Netflix, Marvel o magari non hanno le trame super perfette precise che potrebbero avere i film della Marvel Cinematic Universe, non sono magari cupi come i film del DC Extended Universe, sicuramente hanno dei difetti, ma si deve apprezzare lo sforzo, si deve apprezzare il risultato di avere creato un universo televisivo coeso, così longevo e così funzionante quantomeno. Con questo è tutto, io con l'inchino e con l'imbuto vi saluto e ci vediamo al prossimo video. Arrivederci.